Se sul posto di lavoro hai a disposizione un forno a microonde e ti stai domandando come fare ad utilizzarlo per preparare una buona pasta asciutta per la pausa pranzo, qualcosa che non sia la pasta del giorno prima riscaldata, ma che sia abbastanza vicina a quella che ci si può preparare a casa normalmente, segui questo video. Io utilizzo questo sistema da circa 15 anni, mi ha sempre dato ottimi risultati. Ho portato ad ebollizione l'acqua salata in una pentola sufficientemente grande per contenere i 700 g di spaghetti che preparo ogni volta. Li suddividerò poi in otto porzioni per altrettanti pranzi in ufficio. Mi ricordo, soprattutto nelle fasi iniziali della cottura, di girare gli spaghetti. Niente olio nell'acqua, solo acqua e sale. Per quanto possa sembrare strano, il formato degli spaghetti è quello che si presta meglio a questo tipo di maltrattamenti. Levo gli spaghetti quando sono cotti al dente, non prima. Cerco comunque sempre di usare pasta di buona qualità che tenga bene la cottura. Dopo aver scollato la pasta, la metto nuovamente in pentola, riempio la pentola di acqua fredda e mescolo velocemente in modo che gli spaghetti cedano calore molto rapidamente. Ripeto più volte questa operazione, che ha anche il compito di pulire gli spaghetti dall'amido che hanno rilasciato. Servono dai 3 ai 4 lavaggi. Negli ultimi posso girare la pasta direttamente con le mani, che ovviamente in precedenza ho accuratamente lavato. Uso le mani anche per confezionare la pasta nei sacchetti da frigorifero. La bilancia mi aiuta a preparare 8 porzioni uguali. So che ciascuna porzione dovrà pesare circa 210 grammi. Uso i sacchetti perché prendono veramente poco posto nel congelatore, ma se avessi più spazio preferirei usare dei contenitori da frigorifero, evitando così l'usa e getta. Quando tutte le porzioni sono pronte, chiudo i sacchetti con l'apposita trecciolina ed ecco, pronti i miei prossimi 8 pasti al lavoro. Ecco, qui siamo in ufficio alla mia scrivania. Per condire gli spaghetti ho portato due medaglioni di pesto congelati. Sono quelli della mia precedente ricetta del pesto alla genovese. Aggiungo un po' di acqua che mi aiuterà a mantecare la pasta. Passo quindi nel forno a microonde il tempo necessario a far scongelare e intipidire il condimento. Gli spaghetti sono stati 5 ore fuori dal congelatore e sono quasi del tutto scongelati. Li mescolo insieme al pesto. Lo stesso procedimento si può usare anche con un condimento pronto, solo che in tal caso il passaggio del sugo nel microonde sarà molto più breve, se non proprio inutile. È comunque importante allungare anche i condimenti pronti con un po' di acqua. Metto nel microonde il piatto con gli spaghetti conditi. Metto anche un coperchio che mi evita di dover pulire il forno da eventuali schizzi e faccio andare alla massima potenza per due minuti. Ed ecco, la pasta è pronta, pronta per essere mangiata. Torno alla mia scrivania, una bella girata e buon appetito!